Signori, benvenuti in una nuova puntata della Progetto Zone 2 in K-Mod Allora, nelle scorse puntate ragazzi abbiamo fatto un paio di cosine riguardo alla farm Tipo trovare i semi della botania, eccetera Tanto qua abbiamo ottenuto anche il grey, oltre al nero, il bianco, eccetera, eccetera Qua ho cambiato un paio di cose, tipo sto costruendo un grandissimo magazzino Vi ricordo che il drawer controller ha un raggio di 12x12x12 in ogni direzione Quindi se noi mettiamo il drawer lì, avremo un 12 verso lì, un 12 verso giù, verso su E verso, ovviamente, profondità e verso di noi, ovviamente Quindi sarà un cubo gigante dalle dimensioni di 144 blocchi per 144 blocchi Se non ho fatto male i calcoli No Di 24x24, sì, 144 sarebbe no neanche Cioè, molto di più Comunque, conti a parte, adesso stiamo storiggiando un bel po' di materiali Infatti, se faccio così, abbiamo un bel paio di materiali a portata di mano Che ci vanno abbastanza comodi Lì c'è il nostro mobu spawner con una forma di testa di slime Ma probabilmente lo sposteremo E qui c'è il nuovo, diciamo, è lo stesso vecchio impianto Però, ovviamente, l'ho ripulito da tutti i drawer E ho mandato tutta, tutti i materiali, ovviamente A, innanzitutto, a smeltarsi e a polverizzarsi qui sotto Come potete vedere Tranne gli allorium dust Che ovviamente ha bisogno di essere cotta e basta E quindi la mandiamo direttamente dentro quest'area di stone furnace Qua abbiamo delle casse che contengono oggetti specifici di mod Ovviamente non ho la French Ma comunque c'è un mod based Ora ve lo faccio vedere subito Mod based item sync module Che è molto semplice da fare Vuole un item sync più una gold gear o una gold chipset E ci permette di filtrare gli oggetti in base alla loro mod Quindi ho messo anche un provider per poterle vedere E adesso abbiamo anche molti oggetti che non possono essere staccati All'interno del nostro bellissimo impianto della Logistic Pipe Ora, mentre ovviamente off camera mi accingiamo a fare un'altra cosa Faccio vedere subito che cosa volevo fare Ovviamente è un macchinario che abbiamo avuto già modo di vedere Forse mi manca un pezzo Ranger Vediamo Ha un fluid conduit Vado direttamente a prenderlo così ragazzi Perché se mi mettessi a prenderlo Comunque nel metodo con la Logistic Pipe Ci metterebbe una vita Abbiamo il nostro ranger Andiamo di nuovo su Enderaio Perché probabilmente vi servivano degli energy conduit Anzi probabilmente, sicuramente vi servivano degli energy conduit E andiamo sopra Ecco qua Allora qui abbiamo una piattaforma che ho liberato C'erano le fornaci della Immersive Engineering Che andremo comunque a mettere in un loro spazio ben definito Adesso qui ovviamente ci voglio fare questa cosa Ma non è che mi spawnano gli stronzi, no Quindi facciamo così In modo che abbiamo un quadrato 5x5 Mettiamo magari una flat lamp qui Un quadrato 5x5 all'interno delle nostre fence Quindi sono 5 così Ora in realtà No, così va bene Così, così Qua c'è una flat lamp No, 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 no Ecco Pensavo di non avere questa cosa qua Ok, quindi qui in mezzo Andremo a metterci il nostro bellissimo Ranger Con una bellissima flat lamp Ecco qua Ora mi serve un drum vuoto Però Ragazzuoli Io ho già fatto Eh, sì Ho già fatto una cosa Che in teoria si dovrebbe fare molto più avanti Perché qui è molto più difficile farlo Ovvero il Bedrockium drum Prima di prenderlo Ovviamente andiamo a prendere la nostra bellissima safarinette E a rubare la mucca dell'olio Dell'oil Eccola qua In modo che ovviamente non Ok, perfetto Non mi tenti di mandare diciamo L'oil all'interno delle nostre Dei nostri drum Qui ragazzi abbiamo Un drum intero di XP Liquid XP Liquid Oxygen Che ho dovuto uscire la mucca Perché non posso filtrare Non posso buttarlo E poi Liquefactor de Coal Che ovviamente stiamo già buttando In modo che quest'impianto vada tranquillo Tranquillo E mi faccia i blocchi di materiali Qui abbiamo 60 60 60 per 64 Blocchi d'oro Oh Gesù, Giuseppe e Maria Io non l'avevo mica visto Di Invar 59 62 di Tin 62 di Ferrus 53 di Shiny Mamma mia Quanto va questa farm ragazzi Va molto più veloce rispetto A quella Della Ex Nilo Ok, ci troviamo qui Ora io metterei Qui dentro La muccozza Perfetto Qua ne avevamo un'altra Dell'oil Eccola qui E andiamo a metterla Qui dentro Ora Andiamo a prendere Del bellissimo Wheat Grazie Ma in realtà Due mi potrebbero bastare Andiamo poi a prendere Il bedrockium drum Lo mettiamo qui E Potrei voler fare una cosa ragazzi In realtà sapete cos'è Perché il bedrockium drum Non vorrei sprecarlo per quello Perché comunque E' sempre un bedrockium drum Quindi Ricordiamoci che Di oil Non è che ne abbiamo Così tanto bisogno Qua abbiamo 5 milioni di oil Non è poco Quindi possiamo fare Una cosa del genere Iniziare magari a far accoppiare Le mucche per moltiplicarle Uno e due Uno e due Oh Ah non possono accoppiarsi Perché ovviamente Hanno il Cooldown Della Di sta minchia Va bene Allora aspettiamo Qui mettiamo magari Un oil Bedrockium drum Qua facciamo così E qua facciamo Estrai E inserisci Perfetto Ovviamente questo si riempirà Immediatamente Niente di strano Qua ovviamente Il rancher Magari Possiamo fare una cosa Per esempio Dovrei avere Eccoli qua I cavi energetici Dovrebbero passare Anche qui vicino Quindi potrei fare così E poi in caso Collegarlo Quando ne ho bisogno Però adesso Lo lasciamo scollegato Ragazzi Quindi Cosa possiamo fare Possiamo fare Semplicemente Un'altra cosa Possiamo andare a prendere Innanzitutto Ordinare un altro drum Perché ragazzi Dal Engineer's Manual Tramite il Diesel Generator Con la Gasoline Che si ottiene appunto Dall'Oil Otteniamo C'è una maggiore efficienza Con la Gasoline Rispetto all'Esel E al Biodiesel La Gasoline Ha 18,75 Penso Tic Praticamente Quelli tra parentesi Sono i Tic Quelli non tra parentesi Sono i secondi Quindi dura di più Non so Quanto ovviamente Produca Ah no Produce lo stesso tanto Però ovviamente Dura di più Quindi avendo Una farm Di mucche Oleose Chiamatele come volete È un Rancher A nostra disposizione Potremmo generare Energia Praticamente Pressoché Infinita Ragazzi Avete visto Quanto genera Il diesel generator 156.000 Reston Flux Su Tic Quindi vi dico Già che Tipo L'impianto Lì Metterò Probabilmente Dei fortune upgrade Degli speed upgrade Molti Speed upgrade E potremmo E potremmo anche Togliere forse Quello O lo lasceremo No Lo lasciamo Tanto non mi dispiace Probabilmente Anche la farm Di mucche Da lì La toglieremo La metteremo Da un'altra parte Comunque Prima di Tutto ciò Abbiamo bisogno Innanzitutto Di questo drummino E poi delle Refinery Della Beelcraft Refinery Eccole qua Fai vedere se C'è qualcosa Di Più bellino Ma non è che Il ragno Stava No È lì dentro Quindi Vuole Delle tank Anche se Io ne farei Un bel paio Di queste Refinery Non ne farei Solo una Vediamo se Me ne escono Almeno due Due Perfetto Va bene così Almeno per il momento Va più che bene Adesso Queste due Refinery Ovviamente Non ho bisogno Di energia Quindi facciamo Così Così Ora io spero Con tutto il cuore Che tu No Cosa sto facendo Dammi la magnet Ho perso Questi brick Qui Vabbè Ma chi cazzo Se ne frega Allora Facciamo così Si lo accetti Perfetto Facciamo Questo modo qua E tre Perfetto Quindi tu Dovresti avere Energia Very good Hanno messo L'RF Anche Nei macchinari Della Buildcraft Non male Meno male Allora Poi mi serve Mi serve Fluid Pipe Ma direi di usare Qua Insert E qua Estrai Perfetto Ora tu Dovresti fare Tanta bellissima Gasoline Ovviamente Non so in quanto tempo Tu riesca a farla Però non è un problema Tanto ti lascerò Afk Tipo Per tre anni e mezzo Una cosa del genere Quindi Abbiamo Vediamo in quanto tempo Ci metto a fare un secchiellozzo Ok Dovrei tipo Cronometrare Più o meno Ma 120 RF Su Tic Un MB Ah Una 1 fa Quindi vuole 100 RF Su Tic Però io non so Quanto Ah No 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 Praticamente In un Tic Mi dovrebbe fare Un Cosa di oil E vuole 120 RF Per poterlo fare Quindi in teoria Vuole 1000 Tic Per fare Un Bucket Quindi 1000 Tic Che dovrebbero essere 50 secondi In teoria Per fare Un Uno di questi Drum Perfetto 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 Quindi praticamente Cazzo Dovrei Tipo aspettare Prima che Vabbè Non è un problema Non è assolutamente Un problema Perché dovrei Prima aspettare Che si svuoti Questo Quindi stiamo Farmando Praticamente La nostra Bellissima Gasoline Very good Ora ragazzi Ora 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 Oltre alla Gasoline Perché ovviamente Avremo bisogno Di parecchio Steel Andiamo Nella chest Dell'immersive Engineering Eccola Qui Eccola qua Blast Brick Quindi per fare L'improved Ovvero la versione Automatizzabile Della Eccola lì L'ho appena vista Eccola qua Abbiamo bisogno Delle steel plate Per poter fare Appunto Reforse Blast Blast Brick Poi Ovviamente Ci servirà Anche un Hopper E avremo L'improved Blast Full Nacer Quindi Prendiamoci Un hopper Prendiamoci Anche Steel 27 di steel Ok Quindi Operigno Ho un sacco Di merda Perché ho una Epic Loot Va bene Allora Lo steel Dammi altro Steel Very good Ora tu Basti Per fare Queste 27 Gold Steel Vattela Per gli Under No Fanculo Perché Cazzo Mi è Trasformato Engineer Summer Perfetto Poi facciamoci Le Steel Plate Infine Abbiamo Il Blast Reinforced Blast Brick Perfetto Ragazzi Perfetto Perfetto Ora Io lo piazzerei Vicino A dei tubi Della Logistica Ovviamente E si Potrei farla Tipo In un punto Che non mi scassa Abbastanza Le palle Tipo Qui Ok Ok 1 2 3 1 2 3 Sperando Di averlo Accentrato Si Dovrebbe essere Accentrato Poi Un Hopper Perfetto No Ma stiamo scherzando Ah no 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 Mi va meglio così Si 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 Mi va meglio così Stavo per fare una minchiata Ok Abbiamo la nostra Improved Blast Furnace Tra l'altro Ragazzi Posso fare anche I I cicipuzzi Che potrebbero Aumentarne la produttività Questi qua I Blast Furnace Preheater Dovremmo fare un External Heater Vabbè Magari li faccio Off camera Ragazzi Non li faccio On camera Quindi abbiamo bisogno Di Innanzitutto Un Supplier Ecco qua Poi Coalcock E poi Iron Very good Dovremmo Ma si Tanto alla fine Anche se ci butto I lingotti Anziché buttarci I blocchi Mi andrebbe meglio così Perché almeno Non li devo Scompattare io Supplier Si perfetto Quindi Iniziamo a dirgli Di mandarmi le cose Quindi facciamo così Voglio la Crescent hammer Che dovrebbe essere No Dove cacchio Ho mollato la Crescent hammer Adesso io Voglio morire Eccola qua Ti pareva Ogni tanto Tipo Mollo tutte le cose In una chest Ok Quindi Io ti dico Di mandarmi Ferro E Questo Ma Ti posso dire Quanto ne voglio Se io ti dico Di mandarmi 16 di questi E se Vabbè Fai 32 32 Tu mi dovresti Mandare 16 E poi Il ferro Ovviamente Piano piano Ok Quindi dovresti Fungere Almeno Credo Spero Il ferro Quando arriva Il ferro Ferro Sta arrivando Ferro Che mi ha già fatto Ok Mi ha già fatto Uno stilingot Va bene Va più che bene Ragazzi Ora mi serve Ovviamente Gli extractor Dovrei avere anche Dei moduli Strani No Mi sa di no Uff Che palle Devo fare No aspetta Perché tu Non vedi Neanche qui Io veramente Ma porca miseria Allora Vediamo se All'auto Output Chest Vediamo Ma le potrei Anche fare Se almeno Evitiamo Anche di Perder tempo Dov'è Il legno No No Cazzo Me l'ha presa Ok 5 Me l'ha presa Sto stronzo No Me l'ha presa All'altro Di su Che palle Oh Che siete Voi due Mamma mia Ok Abbiamo le ceste Vediamo se Mi sputi le cose Perfetto Almeno questo Ok Mi sputi Anche questo Fuori Very good Quindi Andiamo a fare Una cosa del genere Si Mi serve Un appoggio Very good Ticos3 Senza segnale Di redstone E poi Anche qui Ovviamente Perfetto Quindi Qui ovviamente Ti metto Inserisci Si Così potrebbe Anche andar bene Qua ovviamente Ti tolgo Questi blocchi Che Che sono Vabbè Tu rimani lì Perché rischio Di togliermi Tutta la Come si chiama Perfetto Quindi Andiamo a fare In questo modo Qui Very good Ora Andiamo a vedere Se Oh Come si è messo Perfetto Tu stai lavorando Very good Quanto stillo 629 Quindi dovrei controllare Appena Rientro Ovviamente Appena finisco Di fare Tutto quello Che Ovviamente Faccio di sera Ovvero andare a lavoro Purtroppo Maledetto me Allora Quanto siamo a gasolina 27.000 Buono 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 Quindi With Fai vedere se Riusciamo a farle Incrociare di nuovo Tu ancora non sei cresciuta Mamma mia Quanto cazzo di tempo vuoi Ok Due di with Uno E due Fatemi un altro mucchino Ok Un altro mucchino E siamo a quattro Mentre qua siamo a Quattro milioni 850.000 Vabbè Sti cazzi Veramente Sti cazzi Devo proprio dire Che palle Io Questo Vedrò più Io questo Olio Olio Lo vorrei Direttamente Tutto buttare E che sarebbe Uno spreco Però Purtroppo Non me ne faccio Nulla Ragazzi Adesso Facendo crescere La popolazione Di mucche Piano 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 Comunque Non Non mi serve Più tutto Quest'olio Perché comunque Avendo quattro secchielli A botta Quattro secchielli Ogni 4000 Tic Vuol dire Che Ogni 1000 Tic Abbiamo Un secchiello Più o meno Quindi Si Bene o male Abbiamo 1000 Tic Ogni 56 Si Quindi Praticamente Abbiamo La frequenza Con cui Produce Che Non sarebbe Male Alle Slack Non avevano Un Drawer Perché Mi ricordavo Il contrario Pensavo Che le avesse Vabbè Vedi che Ce l'ha Perché Non lo Vede Scusa Thermal Expansion Scusa Tu Sei Ah Della Immersive Ma Scusa È lo stesso Slug Perché Io Non 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 Ho Capito Sinceramente Vabbè Ti piazzo Qui Non Non Ho Voglia Di Per Tempo Usare La chiave Qua Cercare Di No Vaffanculo Rimani Così Strons Guardate Che Non Ve Lo Riconosci Allora Qua Stiamo Accumulando Anche Lapislazuli R Redstone Oltre Ovviamente R Redstone Block E Lapislazuli Block Che Si Trovano Qui Very Good Che Figo Che Figa Che Figa Che Figa Che Figa Che Figa Che È La Progetto Zone Ragazzi Per il momento Tutto Ovviamente Mi resta Solo Ad aspettare A fare Lo Stile Necessario A fare Ovviamente Il diesel Generator Quindi Ci vorrà Un po Di Tempo E Potremmo Iniziare Veramente A generare Un botto Enorme Di Energia Per il momento È tutto Ragazzi Io sono Matt Ci vediamo Alla Prussima